La Benevento ITEC presenta il suo futuro ed è un futuro che fa della tutela del territorio il proprio dogma. Ambiente e turismo, questi i principali settori su cui la regione Campania intende puntare attraverso il MARSEC, il centro di monitoraggio satellitare in grado di rilevare e confrontare dati relativi al territorio. Una tecnologia in grado di offrire un contributo fondamentale per il controllo delle discariche e di tutta l'area conosciuta come terra dei fuochi. La tecnologia al servizio dell'ambiente e dei cittadini, capace di fornire al governo una valida alternativa all'invio dell'esercito per tutelare proprio quel territorio, come spiega il presidente del CNR Luigi Nicolais. Con la possibilità di seguire via satellite e l'evoluzione dei vari territori, ovviamente questa possibilità permette anche di prendere delle giuste misure per evitare problemi come quelli che viviamo ogni giorno. L'agenzia Sannita si sta affermando come attore emergente nel mercato dei servizi di osservazione della Terra, puntando a diventare il centro di competenza regionale in questo settore, come attestano i primi incoraggianti risultati conseguiti lo scorso anno con i progetti effettuati in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea e Italiana. Il Marsec è ormai pronto per il rilancio industriale dopo l'operazione di privatizzazione avviata alla fine del 2011 e addirittura d'arrivo entro la metà del 2014. L'utilizzo delle tecnologie innovative del Marsec quindi non solo per la salvaguardia del territorio campano. Le capacità di questa piattaforma tecnologica non si limitano esclusivamente ad offrire supporto alle attività di controllo in superficie ma possono essere utili anche in chiave archeologica. Noi come CNR abbiamo un gruppo molto forte che utilizza questi sistemi insieme anche con la Polizia di Stato per studiare i reperti archeologici che non sono ancora esposti all'esterno e quindi riuscendo con il doppio sistema satellitare e di piccoli aeroplani pieni di sensori riescono a poter sapere quello che succede in superficie e quello che succede in profondità. Questo secondo me è qualcosa di interessante perché molte volte non è necessario scavare ma si può sapere se si scava che si trova.